Riga Sabatini, il Movimento 5 Stelle presenterà in Consiglio Comunale questa novità del baratto amministrativo. Di cosa si tratta? La possibilità per i cittadini che sono in condizioni di difficoltà e quindi non possono onorare i propri debiti con l'amministrazione di poter lavorare con lavori socialmente utili e avere riduzioni o desenzioni dai tributi, appunto dalle tasse. Visto che l'Aggiunta Alessandrini ha messo le tasse al massimo e ha tolto tutte le esenzioni IMU e IRPEF noi proponiamo questa proposta anti-tasse PD, siamo un po' gli anticorpi di questo sistema che ha una sola direzione cioè quella di chiedere e mettere tasse ai cittadini e farli pagare. Questa del baratto amministrativo non è una novità assoluta perché in altri comuni italiani è già in voga? Sì, è già partito anche dei regolamenti in altri comuni piccolini con numeri di abitanti più bassi, 4.000-3.000 abitanti. La realtà pescarese sarebbe invece una realtà molto più grande e quindi innovativa ed ha dei vantaggi enormi perché il Comune può contare su una nuova forza lavoro che oggi non è possibile adottare perché c'è il blocco comunque delle assunzioni. Inoltre pensiamo a quelli che sono i crediti inesigibili che il Comune non può riscuotere. In questo modo rispetto al niente, quindi a non ottenere niente, il Comune comunque ha una offerta lavorativa da parte di questi cittadini. Inoltre si risparmiano anche i costi per quelle che sono le riscossioni appunto forzose per chi non può pagare. E dall'altra parte invece i cittadini hanno il vantaggio di poter con dignità onorare i propri debiti, regolarizzare la propria posizione debitoria e quindi sentirsi dei cittadini in qualche modo apposto con le tasse e con l'amministrazione.